con questo torneo ci giochiamo il futuro del ragazzo marcello isabella carissima per prendere parte al raduno un moto ci sarebbe ma ci sta un costo santi vittorio a me mi servirebbe un anticipo questo mese i soldi li trovo marcello ho preso un secondo lavoro mamma ha detto tua madre che adesso è in una squadra importante c'è un sinistro mamma mia una bomba il mondo è pieno di talento ma altre 3.000 sa bene fra due giorni senta scusi noi siamo qua per provino ma signor qui sono tutti per provino siete bravi siete siete bravi o bravi te quell'arti trappichini come si chiamano cianfraglia talento non basta e ti coprirò le spalle durante il temporale solo se ti fiderai mancino naturale ti coprirò le spalle durante il temporale solo se ti fiderai mancino naturale ma tu sono sociale? no sono solo un mancino ma ci sono naturali Grazie a tutti.